Benvenuti a scientificamente il Tg dello spazio e della scienza. Maven missione compiuta raggiunta l'orbita di Marte. Dopo 10 mesi di viaggio e più di 700 milioni di chilometri l'orbiter Mars Atmosphere and Volatile Evolution, Maven, ce l'ha fatta. Ha raggiunto l'orbita di Marte. Ora per l'orbiter targato NASA inizia un periodo di verifica di sei settimane in cui la strumentazione scientifica sarà messa alla prova per testare il suo corretto funzionamento. Da novembre inizierà il lavoro vero e proprio. Maven si dedicherà allo studio dell'atmosfera del pianeta rosso. In particolare si occuperà di composizione, struttura e dispersione dei gas nell'ottica di capire le interazioni fra atmosfera marziana e venti solari. Mom, anche l'India, arriva su Marte. Anche l'India è arrivata su Marte. Il 24 settembre la sonda Mars Orbiter Mission si è inserita nell'orbita del pianeta rosso. Da adesso in poi studierà la composizione dell'atmosfera marziana andando alla ricerca di metano e di eventuali tracce di vita primitiva. Per farlo si avvale di almeno cinque strumenti. Una camera, un fotometro, due spettrometri e un sensore a metano. La missione costata 75 milioni di dollari fa dell'India il quarto paese che ha raggiunto l'orbita di Marte. I primi a farlo furono gli statunitensi il 14 luglio 1965 quando la sonda Mariner 4 regalò i primi scatti della superficie del quarto pianeta del sistema solare. La supercolla creata grazie alle cozze. I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology hanno dato vita a una nuova colla idrorepellente i cui usi variano dalla riparazione di navi alla cura delle ferite degli uomini. Per farlo si sono ispirati alle cozze le cui proteine, frutto della secrezione, sono degli adesivi naturali. Gli scienziati hanno allora messo a punto un batterio delle scherichia coli in grado di produrre un materiale ibrido che incorpora le proteine delle cozze con quelle batteriche presenti nelle biopellicole. Il risultato è una supercolla in grado di resistere all'acqua. Questo primo esperimento apre la strada a un nuovo approccio che fa del lavoro dei batteri il suo punto di forza. Caves, tragico incidente in grotta, muore un giovane speleologo. Luigi Mereo, 32 anni di nuoro, ha perso la vita nella grotta Subentu, nel supramonte di Oliena, durante le attività di supporto all'addestramento Caves 2014 degli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea. Il giovane è precipitato per 20 metri mentre era in corso un'esercitazione notturna. L'ESA ha immediatamente sospeso le attività di Caves 2014, a cui stava prendendo parte anche Luca Parmitano e si è stretta alla famiglia dello speleologo nel lutto. Superluna, la foto vincitrice del contest Direasi. Si intitola Dillo alla Luna ed è stata scattata da Marco Scarpino, la foto vincitrice del concorso Moonlight, organizzato da Dire Giovani in collaborazione con l'Agenzia di Stampa Dire, l'Agenzia Spaziale Italiana, ad incoronare il vincitore, premiato con un telescopio, la giuria che si è riunita ieri nella sede della Dire e che ha esaminato un centinaio di foto. Protagonista assoluta come da regolamento, la splendida Superluna, immortalata nella notte fra l'8 e il 9 settembre, quando il nostro satellite si è mostrato più grande e luminoso che mai. L'appuntamento con le notizie finisce qui, vi salutiamo e vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento. Sono due gli anniversari che si incrociano nel simposio organizzato dall'Agenzia Spaziale Italiana all'Accademia dei Lincei, entrambi legati al padre della scienza moderna Galileo Galilei, un faro per gli studiosi di tutte le epoche. Una data è legata alla sua nascita ed è il 2014, l'anno in cui ricorre il 450esimo anniversario dei suoi Natali. L'altra è il 22 settembre, lo stesso giorno di 25 anni fa, per la prima volta nella storia, un papa riabilitava lo scienziato eretico costretto alla Biura nel 1633. Fu Giovanni Paolo II a indicare l'opera di Galilei come una tappa essenziale nella metodologia della ricerca e, in generale, nel cammino verso la conoscenza del mondo della natura. Nell'incontro dello scorso 22 settembre, il mondo scientifico si è confrontato su tutti gli esperimenti volti a catturare i segreti di materia e energia oscura. Tra questi spiccano i risultati senza precedenti ottenuti dallo spettrometro magnetico Alfa, installato sulla Stazione Spaziale Internazionale. Uno strumento prezioso a cui hanno dato un contributo fondamentale, sia l'ASI che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, attraverso la realizzazione di sei degli otto sottosistemi rilevatori di particelle dello spettrometro, che va a caccia della materia oscura. Per la prima volta, le misure dei raggi cosmici sono state così accurate. Questo è un campo in cui l'Italia, grazie ai suoi centri di ricerca, ha una tradizione estremamente importante. Perché i risultati ottenuti siano così preziosi e così utili rispetto a quelli precedenti, lo ha spiegato il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston. La differenza riguarda la grande precisione di questo risultato e la possibilità di estendere la misura fino a circa un tera elettronvolt, energie molto elevate, in cui prima i dati non erano disponibili. Le due cose messe assieme permettono di chiarire la situazione dei dati presi in precedenza da altri esperimenti e vedere caratteristiche dell'andamento della quantità di antimateria nella forma di positroni rispetto alla materia nella forma di elettroni che per la prima volta mostrano questi aspetti con grande chiarezza e per adesso sono coerenti con la possibilità che questo effetto sia dovuto alla presenza di materia oscura. Lo spettrometro è in perfetta salute e continuerà il suo lavoro ancora per molti anni. La sua vita è legata a quella della Stazione Spaziale Internazionale, il più grande laboratorio mai realizzato nello spazio, attivo almeno fino al 2020, forse fino al 2024. È legato alla vita della Stazione Spaziale Internazionale che si pensa va davanti almeno fino al 2020, probabilmente fino al 2024. In ambito ESA e con la NASA abbiamo in questo momento discussioni molto serrate per capire come mantenere operativo questo grandissimo laboratorio. Ricordiamoci il più grande esperimento, struttura scientifica e tecnologica mai realizzata dall'uomo nello spazio. È una ricchezza, un investimento eccezionale che dobbiamo cercare di mantenere operativo più lungo possibile, anche perché l'Italia ha quattro astronauti in servizio che possono svolgere la loro attività proprio operando all'interno della Stazione Spaziale Internazionale. Il prossimo astronauta che volerà è Samantha Cristoforetti nel prossimo novembre, ma è una delle missioni di una serie in cui l'Italia è coinvolta. Un lavoro incessante quello di AMS è il premio Nobel Samuel Ting in apertura del simposio a centrare il carattere dello strumento. L'aspetto più eccezionale di AMS è sondare lo sconosciuto, cercando fenomeni che esistono in natura che noi non abbiamo ancora immaginato o che non abbiamo ancora gli strumenti per conoscere. Grazie a tutti.